Antonio Ritolo, Vicepresidente del Polo delle Professioni di Salerno, che nasce ufficialmente oggi. Allora, gli obiettivi del Polo delle Professioni? Gli obiettivi? Prima di tutto c'è da dire che il Polo è un figlio che nasce oggi ma che parte da lontano, è un progetto al quale stiamo lavorando io insieme a un gruppo di professionisti da circa 15-16 mesi. Oggi si realizza concretamente, inauguriamo gli uffici che con grandi sacrifici siamo riusciti a mettere su e vediamo un po' realizzato il frutto di tanti mesi di lavoro. Dico tanti mesi di lavoro perché abbiamo pensato di inaugurare, quindi di dare vita al Polo delle Professioni già con dei contenuti ben chiari e visibili soprattutto per le aziende. Questo ci ha portato in questo percorso, siamo riusciti ad essere, grazie all'organismo Alam, che ha sede d'Avelino ma che già opera in diverse regioni italiane, ci ha permesso di essere accreditati verso il Ministero di Grazie e Giustizia come sede per la conciliazione civile e commerciale e come sede di formazione per mediatori. Quindi già un servizio che da oggi è operativo nella città ed è operativo ovviamente sia per gli associati che per chi non lo è. Altro punto di forza sul quale abbiamo lavorato molto è il settore della formazione. Noi riteniamo strategica la formazione per lo sviluppo del territorio, delle imprese e soprattutto per dare delle opportunità ai giovani laureati e laureanti che si apprestano al mondo del lavoro. Riteniamo che sia fondamentale che il Polo riesca a dare delle risposte. Per far questo grazie al centro studi BS Lab, Business System Laboratory fondato e presieduto dal professore Giampaolo Basile, di cui mi onoro di essere non solo amico ma come voglio dire, lui è un mio punto di riferimento e quindi per me aver fatto questo percorso insieme a lui è veramente un momento di grande felicità. Grazie al centro studi siamo riusciti ad accreditarci direttamente presso Fondo Italia, uno dei fondi interprofessionali che dà la possibilità ai dipendenti delle imprese di poter usufruire di corsi di formazione a costo zero e quindi di uscire a competere sul mercato del lavoro in modo importante e incisivo. Quindi un importante punto di riferimento anche per le aziende e leggevo che ci sono interessi anche di imprese dal nord, di aziende dal nord. Sì, questo è veramente un motivo di orgoglio. Noi non pensavamo di avere già all'apertura una serie di imprese, attualmente gli iscritti sono circa una trentina di imprese soprattutto del territorio ovviamente perché il Polo nasce come punto di riferimento, come incubatore di servizi, professionalità e progettualità del territorio salernitano. Ma siamo riusciti ed era per noi un obiettivo a medio e lungo termine ma abbiamo già avuto due casi reali che possiamo oggi raccontare. Sono due aziende, una milanese leader nel settore della sicurezza e della sicurezza in servizio alle imprese relative a investigazioni legali e scorte armate. Vi faccio due numeri. Attualmente questa azienda fattura circa 5 milioni e mezzo di euro di servizi e allo stesso tempo occupa 50 dipendenti circa a tempo indeterminato e una trentina di collaborazioni professionali. Questa azienda ha deciso di investire sul territorio gambano e dopo aver conosciuto il Polo ha addirittura aperto una sede, una filiare sul Salerno e noi la ospitiamo presso i nostri uffici. Un'altra azienda di ingegneria, in questo momento mi sfugge il nome, di Roma, specializzata nel fotovoltaico e nella gestione di sistemi di sicurezza per le imprese, ha deciso di investire sul nostro territorio. A breve partiranno anche molto probabilmente delle assunzioni che dovranno fare sul nostro territorio. Se il Polo delle Professioni, già la partenza, riesce ad essere un motivo e un momento anche promozionale per lo stesso territorio per attraire degli investimenti, allora siamo riusciti nel nostro intento ancora prima di partire. Questo secondo noi è un punto importante da sottolineare in quanto il Polo si pone al centro di una serie di interesse e con il proprio marchio vuole riuscire a rappresentare un territorio che ahimè molte volte è all'unione di cronaca per fatti molto meno interessanti da un punto di vista proprio propositivi che questi. perfetto.